L'hanno trovato verso la mezzanotte di domenica sera, a seguito di una sinalazione riverso a terra agonizzante, con diverse ferite d'arma da taglio, una anche al cuore, in via dei Cogli Euganei, lungo la tangenziale alle porte di Abano Terme. Subito soccorso dal personale del suo M118, intervenuto insieme ai carabinieri della locale arrestazione, è morto poco dopo il trasporto in ospedale a Padova. A perdere la vita è Mattia Caruso, 31enne di Albignasego, venditore ambulante di dolciumi incensurato. Dalle indagini dei carabinieri è emerso che la vittima aveva passato la serata di domenica ai laghetti Sant'Antonio, con la fidanzata nel territorio tra i comuni di Montegrotto Terme e Torreglia. Lei, uscita dal locale, si è diretta verso la macchina, mentre lui si è allontanato con un uomo con cui avrebbe avuto una lite nel parcheggio davanti al locale. Si tratta del maggior sospettato per i carabinieri, che non l'hanno ancora identificato e rintracciato. Caruso ha comunque avuto la forza di mettersi in macchina e di partire, con tutta probabilità, per andare in pronto soccorso. Ha fatto qualche chilometro fino ad accostare in via dei Cogli Euganei ad Abano Terme, dove è crollato a terra. Al momento non risultano indagati.